Buongiorno a tutti! Stamattina volentierissimo vi faccio vedere un paio di articoli di cui ne sono veramente fiero. Partiamo con un kit di semina nella categoria degli articoli green sostanzialmente. Al giorno d'oggi si parla tantissimo di ecologie e anche i gadget si sono allineati. Sono gadget completamente biodegradabili, con materiali che vanno compostati come questo. Altri materiali che fanno parte del riciclo, del riuso della materia prima, per non sfornare sempre articoli con materiale vergine. Come dicevo, questo kit di semina, 5 sementi di petunia, si presenta con una scatolina innanzitutto con finestrella che si intravede già al logo da dentro, ancora da dentro, in cartone riciclato. Dopodiché il vasetto è un materiale biodegradabile. Quindi quando la pianta cresce o la mettete direttamente col vasetto dentro a un vaso più grande o la mettete dentro alla terra. Faccio notare che la stampa è un semplice sticker, a colori, del vostro logo magari, che si può levare per essere green al 100% e metterla dentro la terra. Ma la particolarità è, ma io compro dei kit di semina, un bel gadget green che ti accompagna e accompagna i tuoi clienti nell'ufficio tutto il giorno, ma crescerà, che figura ci faccio, 5 giorni e questo è il risultato. In 5 giorni i 5 semi di petunia sono qua. Quindi il vostro cliente se lo cura, se ne è protagonista della vita di questa specie di essere vivente sostanzialmente. Quindi veicola il logo, lo cura, cresce e fa crescere il vostro business.